Beh, innanzitutto grazie per questa meravigliosa opportunità, è un'esperienza bellissima, un'esperienza che consiglio a tutti dal profondo del cuore, perché ovviamente il cuore ce l'abbiamo tutti e queste potenzialità le abbiamo tutti dentro. L'importante è riuscire a trovare qualche d'uno nella vita, come loro, come Roy e Joy, che praticamente riescono con questa semplicità, con questa amorevolezza e con questa gentilezza, perché ci vuole anche coraggio per aprire il cuore, a tirartelo fuori. E da quel momento praticamente accade qualche cosa di meraviglioso, perché la vita assume una connotazione diversa, diventa, come dire, più vivibile, diventa più alla nostra portata, praticamente da, come dire, da oggetti diventiamo soggetti, cioè diventiamo partecipi della nostra vita, capiamo che possiamo metterci parte del noi, parte di noi, e quindi questo penso che sia il messaggio più bello da poter dare, di speranza. Molto bello! La volta che vieni? La seconda volta. Io addirittura, anche gli amici dal Belgio li hanno seguiti da ieri mattino fino a ieri sera, io l'ho trovato bellissimo, ok. Allora, io penso che la cosa più bella è trovare questa connessione, perché ti aiuta veramente a sentirti più libero, collegarsi al respiro e trovare comunque una canalizzazione. È sempre molto funzionale, molto utile per passare le giornate, i giorni meglio, per crescere meglio, quindi, ok, tutto bene. Fantastico! Una crescita, una cosa incredibile. Vedremo poi gli sviluppi. Grazie anche a Roy Martina, che lui è veramente un fenomeno e bisogna conoscerlo, vedere queste conferenze dal vivo, perché sono molto diverse da quelle che riusciamo a vedere o nei video o nel YouTube. Grazie, MyLife! Grazie a tutti!